Inizia il secondo tempo, tra Dortmund e Barcellona, il primo tempo si è concluso 4 a 3 del Barcellona, la partita tutto il primo tempo, si è unita da una parte e dall'altra. Una maglietta di Codrea oggi, del Palermo, maglietta recente, solo 11-12 anni, dei giorni d'oggi, Codrea che quando fu era stato preso come regista, però non lo potevano con i congelatori, ma se la giocava. Dazza le braccia Codrea sul dischetto del calcio d'angolo, tutti sul tavolo. Codrea ha la stessa personalità. Il capo animatore Corino. Giovenzico, accanto alla nostra sinistra abbiamo un Milanista. Che c'è? Caricolamo, fare un video, guarda. Il Milan è gemellato col Catano. Quattro. E ai dai tre punti al ultimo avuto. Daga, fatevi vedere, però! l'offerto Ivan l'offerto 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 accende è bello tre è sotto tre bello 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 5 d'Ave di Barcellona Colossi la volta è su al gol Ivan la vostra figlia C'è l'altra cosa che mi mancano, c'erano degli alberelli che uscivano da qua, la nuova che è? Sì, si vedete, nella videocamera si vede un po' mai sbuffato. Ah, c'è il mio? Riccato, c'è il cielo. C***o. 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 Eh, ci sto prendendo a casa solo ora, c***o lo sguardo. Io pure. Già, perché siete meglio nella videocamera. Sì, trovarvo. Buono, c***o, buono! C***o. Buono, buy non ho non ho,agare dieci! C***o. C***o. Yeah i c***o. Guarda! Vala, vulu. Vai, vai! Mischioio partiere! La casa! Mi da sinino! No, no, con il culo! Ma è flato, è flato! La cattolta! È flato! Sono colori! Mi da sinino! Quasi sono il riso! Superi che è sulla camera! È flato! Ho, che cosa! Ho, che cosa! Ho, che cosa! Ho, come tu poi! Ho! Ho, come tu poi! Adesso ha dato un po' di mano di Arbo. Siamo al quinto, quasi al sesso. Siamo al quinto. 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 Sì. 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 . Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Sabato faccio 19-23. Ci sono tutti i miei turni, anche i ragazzi che si vederanno. E qui domenica non gli interessa, a questo punto che ho detto tutti i turni, pure la domenica, 21-30-4. Scusa, sabato invece il turni, notte. 19-23, 23 sono liberi. No, ti riesci a mettere più il paletto. Sì, infatti lo stadio ci posso andare per questo. Sì, infatti ci si è andato tutto l'anno. Perché non mi posso perdere l'ultima. Ma io ci vado, mi sembra male dirti che non mi metto la tela, ci vado. Sky mi ha inquadrato tre volte. Che dicevi? Anche il premio. Andiamo a fare il meschio più catagli. Non diavato, è bel gol. 7-5. Prova a tornare in costa al Dortmund. Quanto? Quanto stiamo? 7-5. 7-5. 2-2. Dai, muovete, gira la palla, non state neanche bene. Il Gigalluccio. 8-5. Il quindicesimo nel secondo tempo. Sì, questi sono cambiati. Quindicesimo, quasi 16. Scusa, carlo. Perché puttana, porca. Sotto. Dai, dai, Mario. Non Dai, io poco poco uscito prima. Di dove, come? Guardate il gioco il gioco è da sopra il gioco il gioco il gioco è il gioco il gioco per nel Barcellona. Il nostro corso gratuito è un'altra. aaaahhhh è lo che ha fatto aiu Vado a Galluzzo, 10-5 No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.